Perché sono, aspetta che devo andare a prendere degli spillini, perché qui è da mettere, non posso fare altro che un puntino di colla e basta perché con l'ago non ci riesco ad arrivare, però non lo facciamo vedere a nessuno che noi lo incolliamo, li vedo, perché questi sono i nostri segreti, io l'ho tutto cucito ma in alcuni punti sono stata costretta ad incollarlo perché e poi io uso una colla che non userebbe mai nessuno.